calcio di rigore Moretti contro Egizzi rincorsa del numero 9 si ferma e poi spiazza l'estremo difensore 2 a 1 football hit Roma Nord non Lorenzo Albanesi, Trevisani taglio di Natalucci, Trevisani ancora salta un avversario, l'ex calciatore che dà il pallone per Moretti doppietta personale del numero 9 3 a 1 football hit Roma Nord Moy, attaccato da Moretti che li porta via la sfera, parte velocissimo Moretti, taglia il campo va con il destro Moretti, tocca Egizzi ma non può nulla, palla in rete tripletta del numero 9 4 a 1 football hit